Eeeh salve a tutti amici cupariani e bentornati in questo nuovissimo video Allora non ci perdiamo troppo in chiacchiere Eeeh si vi regalo una copia di Escape from Tarkov Però è proprio una cosa che mi viene dal cuore di farvi giusto per ringraziarvi Perché è andato... il canale sta andando molto bene Vi ringrazio veramente tanto E quindi vi voglio fare un regalo Eeeh come partecipare? Non è un coso classico che vedete in tutti... In tutte le persone che fanno giveaway su youtube Ovvero vi dovete iscrivervi al canale, lasciarmi piace No, non dovete fare... non dovete iscrivervi, non dovete lasciarmi piace Perché sinceramente non mi interessa che voi vi iscriviate Perché forse mi... mi prenderei solo persone che si iscrivono grazie al giveaway Quindi... per... Quindi non voglio che si iscriva gente solo per il giveaway Quindi niente... Però c'è una cosa che dovete fare Andate nel link sotto di Twitch Nel link di PugB Perché sarà un... sarà diciamo fatto insieme a lui Perché oggi per voi è lunedì Per me è venerdì Io lo sto facendo così di venerdì il video Almeno ce l'ho già pronta Qualsiasi problema c'è, lo carico Eeeh... niente Oggi è lunedì Il prossimo lunedì Eeeh... circa verso le 5 e mezzo Come già fece PugB Eeeh... ci sarà il giveaway Insomma ci sarà l'estrazione Quindi insomma Durante questa settimana Magari se volete passate di lì Guardatevi le live Che sono dalla domenica Al giovedì Eeeh... quindi niente Allora... quindi molto semplice Basta che andate sotto nella descrizione Nel canale di PugB Perché lunedì prossimo Verso le 5 e mezzo Più o meno Tanto in descrizione Vi lascerò anche l'ora In cui si svolgerà il... 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 L'estrazione E metto d'accordo con Pug L'ultima volta l'ho fatta le 5 e mezzo Quindi insomma io opto per le 5 e mezzo Anche questa volta Quindi niente Eeeh... lunedì prossimo 5 e mezzo Tutti sintonizzati sul canale Twitch di PugB Insomma all'ora che c'è scritto sotto in descrizione E quindi Eeeh... ci sarà l'estrazione Che vinca il fortunato Però non è che questo video è solo per annunciarvi coso Ma andiamo anche a fare una bellissima Partita Andiamo con un mp5 silenziato Visto che ce l'ho Visto che devo buttare via un po' di roba Perché vedete Qua c'è io ero pieno Ogni volta che vado a fare una cosa Non so dove infilare la roba E quindi insomma Vedete un po' come sono messo qua Di roba E vedete che ho ben Si 5 Eeeh... M4 Perché c'è peacekeeper Che al... L'ho farmato al livello 3 Ora mi manca ad arrivare al livello 30 Livello 29 Poi insomma è un attimo fare questi 100.000 da spendere su di lui Eeeh... vi da praticamente per... 4... eeeh... Ma ce l'aveva a scher Sarebbero questi qua Quelli prendete semi automatici Ok? Bene Quindi questa è la nostra roba E' il mettino E' il call pack E' il 3m Tutta la roba nuova L'mp5 silenziato Vt rig Un caricatore solo perché basta Tutta questa bella roba Spostiamole lì con i colpi Abbiamo una vasellina Perché la vasellina EOP Toglie praticamente tutto Guardate quanto è bella la vasellina Leva tutto Tutto quanto Quindi niente Andiamo così Due granatine Siamo pronti Per farci una custom Quindi ci andiamo alla mattina E ci si vede dopo Ok Intanto vi ricordo Di Eeeh... Di andare nella pagina facebook Perché lì Posto aggiornamenti Cose Eeeh... Intanto il gatto si sta muovendo Spero non si senta Che... Le sue fuse Le sue cose Allora Sono nel momento Di desync Ok Quindi devo aspettare Che si calmi Un po' Vediamo Si Sono sempre nel momento Iniziale di desync E se muoio adesso Per colpa del desync Mi sparo nella vita reale Ok Sembra si stia riprendendo Ok Ok si è ripreso Così sembra Il... L'MP5 Ce lo teniamo in... 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 In burst Che sarebbe tre colpi Tre colpi Quindi insomma Una raffica Eeeh... Ok sta riprendendo il desync Perché mi sta... Credo che quando inizia a laggare un po' Perché sta caricando la mappa Quindi ci facciamo uno scatto molto Scattoso Da quest'altra parte Eeeh... Un ragazzo Non mi ricordo chi Mi disse che anche il 1080 Si vede un po' sgranato Eeeh... Quindi insomma Cercherò di Alzare la qualità Ma senza farlo pesare troppo il video Perché lo sapete Io ho una 7 mega Non è che riesco Molto Insomma A caricare video molto pesanti Che poi ci vuole un'eternità Adesso Ogni volta Devo fare così Perché Mi sta ridessincando Tanto Ok Ecco Se sentite Il... Il... Un cigolio È il gatto che mi sta spostando Il braccio del microfono Gatto di merda Non ti cigrattare Gatto Gatto Niente Spero che il gatto Non stia facendo casino Col microfono Perché Ci si sta un po' grattando Prima ho fatto Uno scav Ero solo con la pistola Mi sa che c'è il cecchino Ok Il cecchino ce l'ha con qualcun altro Magari riusciamo a farlo cadere Comunque avevo fatto uno scav Che ero con una pistolina E stavo per ammazzare uno Che aveva tutta roba silenziata Ma Non ce l'ho fatta Allora Questo sono io che lo sposto Allora Lì c'è uno L'ho colpito Qualche volta Abbiamo 21 colpi Che possono bastare E' un po' Un punto brutto Perché ci può essere gente A sinistra Ci può E poi quella qui A destra E' paura Mi fanno saltare Perché sono troppo concentrato Ok Quello L'ho ammazzato Ricarico Te lutti E io ti ammazzo Ah no Ho ricaricato Quella con 21 colpi Riricarichiamo Allora Magari questa partita Ce la facciamo Senza luttare Perché ho sempre un po' Di sfiga Inizio a luttare E poi muoio Magari si dà Un'occhiata Molto veloce Quello Ci muori Oh Sento qualcuno Ho sentito Un Un'arma strana Che sparava Molto veloce No Mi si è buggato No Si è buggato No Non ci credo 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 Non ci credo